ciao ragazzi e benvenuti in accademia tessile oggi voglio parlarvi di una cosa importantissima l'importanza di diventare padroni di se stessi di essere il capo di se stessi purtroppo viviamo in un sistema corrotto un sistema che sin da piccolino ti porta ad essere uno schiavo ad attuare il 40 40 40 ovvero 40 anni di lavoro per 40 ore settimanali per percepire andare in pensione con il 40 per cento del tuo stipendio ma sapete cosa significa significa essere schiavi del sistema guadagnare mille mille cento euro al mese per 40 ore settimanali che se fate la divisione sono l'incirca 5 6 euro l'ora è pazzesco è impossibile vivere così ecco perché si c'è un sistema di schiavitù un 20 per cento di persone ricche e un 80 per cento di persone povere perché il sistema non vuole menti milionarie le menti milionarie sono scomode hanno bisogno di schiavi che portano il mattone in cima per creare una piramide per l'ego del faraone quindi cosa devi fare devi prendere in mano la tua vita devi dire no al 40 40 40 diventa padrone di te stesso si forte e fai questo passo so che purtroppo viviamo in una cultura che la nostra famiglia nostra moglie il nostro sistema ci porta ad ambire al posto fisso al posto fisso ma il posto fisso non è nient'altro che mettersi le manette e dire sì al 40 40 40 insegui i tuoi sogni diventa padrone di te stesso e arriva veramente dove ti meriti di arrivare perché tu meriti veramente il meglio seguici in accademia tessile e noi ti insegneremo a diventare un imprenditore di successo nel campo della moda e del tessile e ti insegneremo a dire no al 40 40 40 perché tu meriti di raggiungere i tuoi sogni e meriti il meglio mi piace di nuovo pocchio